Ho paura di babbo nasale, apriamo la porta Ok mamma, siamo pronti Anche noi Vai, chissà Aspetta, ma che succede? Vado io prima Mamma mia Che succede papi? No vabbè, salte qui voi Ragazzi, oggi è la vigilia di Natale È il momento di preparare i biscotti Hai ragione, Auri 24 dicembre 2020 Vigilia di Natale Ed è già sera Che c'è? Ciao a tutti ragazzi Buon Natale anche da parte nostra e anche di Emi Saper arrivare Mi stava dormendo Vieni, 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 vieni La nostra piccoletta si era già addormentata Perché ragazzi è sera Ma prepariamo i biscotti al momento È giusto mamma, Auri e Noemi Devono preparare i biscotti per Babbo Natale, scusa Ma prima di cominciare a guardare questo super natalizio video Della famiglia più pazza del web Ricordatevi di Iscrivervi al canale Cavaleri Family E cliccate sulla campanella Noi siamo i Cavaleri Family Io ho un piano Mettiamo la farina per terra Vediamo i passi di Babbo Natale Brava Auri, è un'ottima idea È vero Perché gli anni passati noi abbiamo sempre piazzato una videocamera Se non avete visto gli altri video andateli a vedere Perché abbiamo messo diverse volte una telecamera che filmava Babbo Natale Che entrava Ma quest'anno secondo me Babbo Natale è diventato più furbo E noi lo siamo molto più di lui Dobbiamo prendere la farina Così resteranno le impronte di Babbo Natale Sei passato di qui Sì, ma prima i biscotti scusami Ah brava, eh sì Perché magari si stanca C'hai ragione Mettiamo i biscotti Auri Ah, avevi già preparato il piatto Ah, e anche il tuo bagliolo Che bello Forma di pinguino Brava Questi sono i biscotti che abbiamo fatto noi Nel video in cui abbiamo fatto la pasta frolle Abbiamo fatto i biscotti per Babbo Natale, vero? Sì Eccoli qua i biscottini che avevamo creato Questo lo do a Babbo Natale per regalo Perché lui forse mi porta regalo e allora io gli faccio un pensierino Brava Auri, ma questo è proprio un bellissimo pensiero Babbo Natale va nelle case di tutti senza ricevere neanche un piccolo dono Mamma, due pensieri Anche le caramelle Dai, aggiunziamolo un po' Vuoi viziare Babbo Natale? Dove le vuoi mettere queste caramelle? No, ma poi non mi vede, me ne mangio un po' Ma non mangerà un po' troppo Babbo Natale Prima i biscotti, poi le caramelle Mettiamoli sul piatto Le ho messi proprio qua Sei ritornata Emi? Vuoi mettere il latte a Babbo Natale? Che ne pensate? Scrivetelo giù nei commenti Secondo voi, Babbo Natale, berrà il latte da questo bicchiere e mangerà i nostri biscotti? Scrivetelo giù nei commenti, fatecelo sapere Auri, mettiamo tutto sul tavolo Versa, 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 versa Così se vuole puoi inzuppare i biscotti Basta, basta, troppo Basta Ma gliel'hai messo tutto L'appoggio tipo qua Ecco, un buon latte Adesso i biscotti Eh sì, questo ciccione mangia veramente tanto Questo Babbo Natale mangia veramente tanto Wow, guardate Papi non aveva visto il mandatore Carmela Mangi tutti i biscotti Babbo Natale? Li mangia veramente tutti Perché vedi che pancia che ha Ok ragazzi, tutto pronto Ma che cosa vuoi fare con quella, mamma? Grazie a questa farina Che spargeremo tutta per terra Scopriremo se stanotte Babbo Natale È entrato qua dentro a consegnare i regali Perché vuol dire che lascerà delle impronte sulla farina Io ne sono certa Guardate ragazzi, Babbo Natale fa così Mamma mia, ma in effetti è vero Babbo Natale può entrare dentro il cammino finto del televisore, mamma Ma sei sicura di sta farina? Noi non abbiamo il cammino Quindi Babbo Natale entrerà o da qualche finestra o da qualche porta Dobbiamo mettere questa farina agli ingressi Sì E se la mattina mi alzo e la vado a calpestare io? Babbo Natale sarà già passato di qui, papi Ma viene la notte, dai, sbrighiamoci Va bene Ragazzi, io direi di partire dalla veranda Proprio da questa porta finestra, guardate Ma allora scusa, la devo aprire? Sì, lasciamola aperta, lasciamola aperta Non si sa mai, aiutiamolo a entrare E allora aprirò il cancello Lascia tutto aperto così Babbo Natale arriverà dal giardino Apro tutte le porte, spalando casa Bravo papi, anche il cancello, tutto aperto? Mamma, ma non è che Babbo Natale con la slitta viene qui sul giardino? È probabile papi, è il posto ideale per parcheggiarsi Auri, ora è il tuo momento, mettiamo la farina Mamma mia, che pagello Va bene, mamma, va bene così, va bene così, mamma Va bene così Eeeh, farina Guarda, mamma, in effetti le imbronde rimangono, guarda È proprio la ragione, mamma, Auri E infatti, metti ancora, ancora abbondante E mamma, adesso li infondiamo Dai, 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 mettetela fino all'ingresso Basta così, basta così Veloce, veloce che i folletti ci stanno per vedere Chiudì Chiudiamo Chiudo la chiave, mamma No Adesso sì E come fai ad andare Babbo Natale? Hai ragione Diamogli un piccolo aiutino Papi Ok mamma, siamo stati veramente astuti Quindi, ricapitolando Latte per Babbo Natale Biscotti E un dono piccolino da parte delle mie piccoline Aurore Noemi per Babbo Natale Guardate ragazzi, da qua si vede benissimo la quantità di faiati Carina che abbiamo messo all'ingresso Guardate Eh sì ragazzi Mamma, ma scusa, non è che si metta a imbassare la pizza Ma cosa dici, ha già i biscotti, poi arriverà pieno, è stato in altri appartamenti, in altre case Io direi che è tutto pronto Andiamo a nanna tutti e aspettiamo che arrivi il 25 Vedremo se le impronte saranno qua Va bene ragazzi, ci vediamo domani Notte, a domani, chissà cosa accadrà, ciao Ragazzi, è mattina, la mattina di Natale Aurora non vuole aprire la porta, ma perché? Ho paura di Babbo Nasale Come paura di Babbo Nasale? Se è venuto a casa, è già andato via, non lo troverai più qua Allora andiamo ad aprire, apriamo la porta Ok mamma, siamo pronti Anche noi Vai, chissà Aspetta, ma che succede? Vado io prima Mamma mia Che succede papi? No vabbè, state qui voi Ci vuoi spaventare? Venite, guarda, venite Eh Mauri Ok Che dobbiamo fare? Le impronte a terra, Auri Guardate i biscotti, il latte Il mio regalo l'ho portato via Che c'è scritto, Ria? No, ma non so leggere Un biglietto per le bambine Grazie per il pensiero Buon Natale Oh 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 Auri Ma sei sulle impronte di Babbo Natale Ha bevuto quasi tutto il latte Ma ragazzi, forse il coronavirus non è finito Guardate Apriamo qui Guardate le orme, ragazzi È andato da lì È andato da lì È entrato così Ando a insegnare i regali Aspetta Ho trovato una cosa Ragazzi Mamma mia ragazzi Ma quanti regali ci sono Di Aurora È mio Sto a leggere Aurora Aurora Io per sempre Auri sei contenta? Sì ma Aurora Ma c'è scritto Io direi che è arrivato il momento di togliere questa farina Altrimenti non riusciamo ad aprire tutti i regali E ci impastiamo tutti Che ne dici? Infatti Ragazzi siamo emozionatissimi Babbo Natale è venuto qua per davvero Ora iniziamo a pulire e tiriamo via tutta questa farina Altrimenti ci impastiamo E non riusciamo ad aprire i regali Ora sta arrivando il momento più bello Lo scarto dei doni È giunto il momento di aprire i regali Sono di Noemina Di Noemi Guarda Wow Continuiamo Sono felice perché ho visto il regalo molto bello Portiamo tutti qua i regali Dai così li apriamo qui Tutti insieme Apriamo questa Cos'è sta roba? Un cover Senti No non è possibile Lei cantante che trova pallone Già Scarta scarta Vediamo che cosa sarà I trucchi No Io ma Ma c'è O devi terminare cosa c'è in testa La Lollo È bellissimo La cellulare La Lollo con le palline Grazie Gaia che ci ha fatto questo pensiero Mamma ma questo è quello che va scritto nella letterina Noemi Vediamola Pettina Evviva Aiutate Nauri È troppo pesante per te Stai attenta Pogelo Eh no ma questo è di Noemi L'ho scritto io della letterina Il campero delle barbie Molto LOL Queste sono le super LOL Quelle che cantano le DJ Ah tutte e due No vabbè ma questo Babbo Natale ha pensato proprio a tutti eh E qui cosa c'è? Mamma Auri Emanuele Noemi Noemi ha aperto un regalo importante La Nintendo È quella Questi sono i regali che abbiamo ricevuto da Babbo Natale Emi che cos'è questo? Un crybaby? Sì anche questo è rosa Emi che cos'è questo? Le Barbie Il camper delle Barbie Sono gelati Sono gelati? Questi sono gelati e colorati Questo è rosa Wow Ma è un furgone dei gelati Della cucina delle Barbie E quello lassù che cos'è? Questo è il mio Barbie Per andare a un piscina Mia E la Nintendo Switch Ragazzi Con due giochi Grazie infinite Babbo Natale Sei stato molto generoso E voi ragazzi Che regali avete ricevuto quest'anno? Scrivetelo giù nei commenti Ok? Ma soprattutto Babbo Natale è venuto nelle vostre case? Fatecelo sapere Fatecelo sapere Papi Questo è per noi E chi ce l'ha fatto? Mamma Questo bellissimo regalo Ce l'ha fatto una nostra piccola fan Gaia Pischetta Grazie mille Un bacio grandissimo Tanti auguri di buon Natale Grazie infinite E scrivi giù nei commenti Che cosa hai ricevuto tu Da Babbo Natale Ragazzi Speriamo che questo nuovo video Dei Cavaleri Family Vi sia piaciuto Prima di chiudere questo video Ricordatevi di Iscrivervi al canale Cavaleri Family E cliccate sempre sulla campanella Per ricevere le notifiche Ricordatevi che Noi siamo i Cavaleri Family Ciao ragazzi Buon Natale a tutti Buone feste Al prossimo video Ricordatevi di dirci Se abbiamo ingastrato bene Babbo Natale Quest'anno con la farina Siamo stati bravi Vero? Le avete viste le impronte? Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti